eccoci qui con un altro volto nuovo un under classe 2001 martino ferrari cresciuto nel settore giovanile dei creps rimini ciao martino benvenuto a faenza ciao luca ciao a tutti grazie mille ecco stavamo scherzando poco fa con martino perché pur essendo praticamente riminese d'adozione perché tu sei nato a in provincia di sondrio però praticamente da giovane sono venuto qua hai conosciuto soltanto faenza poche settimane fa sì esatto io avendo fatto nonostante abbia fatto tutte le dall'under 15 tutte le giovanili a rimini ai creps non avevo mai avuto l'opportunità di giocare di visitare comunque nel campus nell'arena dove gioca dove giocheremo quest'anno e tra l'altro diceva appunto che sono rimasto super sorpreso positivamente perché ho notato delle strutture veramente fortissime anzi assolutamente quelle valide quindi è stata una bella sorpresa diciamo ecco tu hai fatto la classica la classica escalation che vorrebbe fare ogni giovane cioè sei venuto a provare hai convinto coach serra e sei nella squadra dell'anno prossimo sì esatto è stato ormai con te un mese e mezzo fa e ho fatto qualche allenamento qua lì a faenza e c'era coach serra e niente evidentemente gli sono piaciuto e quindi mi ritroverò quest'anno con i colori di faenza le guardia dicevamo cresciuto a rimini con anche un'annata giocata in gsilver a bellaria però diciamo che è la tua prima vera stagione nei signori sullo scorso anno a pesaro quest'anno al bramante pesaro cosa ti aspetti quest'anno dalla stagione? allora individualmente vista anche come è composta la squadra quindi con tanti giocatori oltre che molto forti anche con esperienze sia in serie b che in serie maggiori individualmente sicuramente mi aspetto di migliorare molto anche grazie aiuto e consigli di compagni di squadra perché ripeto è una squadra formata da molti giocatori di estremo livello e quindi sicuramente proverò però le orecchie aperte ogni singolo allenamento perché c'è solo da imparare essendo giovane sono superiore da disposizione sia dei compagni che della squadra dal punto di vista della squadra sicuramente a parer mio gli obiettivi si mettono passo dopo passo quindi di volta in volta vedremo cosa ci aspetterà e porremo l'asticella sempre più in alto come ruolo playguardia che tipo di giocatore sei? allora mi ritengo abbastanza versatile perché posso giocare sia da uno che da due e come tipologia di giocatore sono altruista mi piace giocare con i compagni e passare la palla e credo di avere nell'uno contro uno una buona arma in attacco e diciamo che mi sbatto in difesa quindi queste sono principalmente le mie caratteristiche insomma ecco aggiungo un grande piacere di coach Serra perché fa parte della difesa dell'intensità su una delle caratteristiche delle sue squadre Martino grazie mille della chiacchierata non vediamo l'ora ovviamente di vederti in campo di vederti in faenza il pubblico non vede l'ora di incitarci tra poco si inizia vale l'assess per me grazie mille a presto insomma a presto ci vediamo pantaloncini perché tra poco si inizia a correre giusto senza altro mi scarpe la ginnastica pantaloncini mi scarpe la ginnastica ciao Martino grazie saluto